Oggi in Commissione di Vigilanza abbiamo discusso e approfondito il tema dell'elezione del CDI e soprattutto del Presidente dell'area Marina Protetta. Parliamo di un'area strategica dal punto di vista ambientale e soprattutto dal punto di vista turistico, di promozione e valorizzazione di un territorio fondamentale per la nostra Regione. Purtroppo, per ragioni politiche, per ben due volte è stato rinviato questo tema. Per l'elezione addirittura si è dovuto ricorrere al TAR e il TAR ha sentenziato in maniera chiara che il Presidente spetta ad uno dei componenti indicati dal Comune di Silvi. Purtroppo c'è una confusione, un caos all'interno del centro-destra, tra Regione, Comune di Silvi, Provincia di Teramo e purtroppo sono mesi che l'area Marina Protetta è lasciata all'abbandono, emarginata e soprattutto in pieno caos amministrativo solo per ragioni politiche e di divisione della maggioranza di centro-destra a livello regionale. Questo tema si riscontra anche in altri enti, abbiamo visto tutti l'Istituto Zooprofilattico, l'area Marina Protetta appunto, così come l'ASP2 di Teramo, così come il Consorzio Piomba Fina. Siamo in presenza di caos e confusione all'interno della Giunta Marsilio e non solo. Questo caos ovviamente arriva anche ai territori. stanno rovinando un'area Marina Protetta che per anni ha dato lustro alla nostra Regione e non solo.